Andrex e Sergix, se vedete questo video, io se volete video con voi ne faccio quando volete, potete pure contattarmi, eh, tranquilli Bella a tutti ragazzi e per tutti questo è un nuovo video di ESP, bentornati Oggi siamo in una reaction, come vedete dal titolo che è coperto leggermente dalla mia webcam Siamo sulla parodia di Sferebasta UAE Milione di Andrex, Fit, Sergix Se non li conosciete, sono due ragazzi che fanno vlog, io li conosco ormai da un bel po' Ogni tanto guardo qualche loro video, non tutti, lo dico la verità, però comunque mi piace ogni tanto vedere qualche loro video Fanno vlog e a proposito di questo argomento, preparatevi perché da gennaio 99% dei video saranno video vlog Ovviamente qualche serie tipo la Pixelmon rimarrà, forse anche un'altra, ma principalmente vlog Quindi non vi preoccupate che arriveranno i vlog Detto questo possiamo iniziare con la, con la reaction a questa parodia Che ovviamente sta ancora caricando, grazie mille internet Se vi chiedete perché c'è il cappuccio, perché mi piaceva figo, in realtà è perché i capelli di merda E si vede anche, yes, quindi Bene, ora che sembro Darth Vader, non è vero, ma quasi Possiamo iniziare con la reaction del video, che stavolta non ce l'ho di qua perché lo schermo a volte mi si spegne e mi serve il bianco per farmi luce, se no era tutto nero Quindi l'ho messo di qua anche perché è la luce che avete dato, perché mi faceva altamente cagare Quindi iniziamo Ok, loro che scendono dalle scale probabilmente di metropolitana o treno, non lo so, la stazione insomma Milione, ok Io vi dico la canzone originale e non l'ho sentita perché come sapete io la trap non andiamo molto d'accordo Quindi spera che lo ascoltano a bianco Ok, ecco, qua intende i suoi iscritti da quel che so, perché il branco di lupi, madonna non so parlare Eh, sono i suoi iscritti praticamente, per chi non lo sapesse Credo che canti solo lui o forse, teoricamente è anche un pezzo Sergix, perché c'è scritto Fit Sergix, quindi teoricamente Eh, la reaction vuoi che non la faccia, cioè, vuoi mettere, regà dai ma, facciamo i seri per vincere Ci sta però, mi piace come parodia, ci sta Io ho visto anche le storie di quando registriamo i nostri video e ci sta dai Cioè, sembra fatto, è editato bene assolutamente, però non avrei messo tipo Quando registri col telefono dritto non le avrei girate per mettere nei video, quello no Però ci sta per il resto Disamine le storie Il dissing qua, regà, attenzione Ok Questo credo che sia il ritornello Perché si è tipo bloccato, quindi, teoricamente Esatto, eh, eh, ho detto che è il ritornello Uh, attenzione Però io ancora Sergix non l'ho sentito cantare Eh, sì, l'ha fatta la can... una parodia più che una canzone, però dai, ci sta Oddio Regà, devo provare... attenzione Sergix che canta Ma no, questo pezzo lo voglio assolutamente sentire Perché tra i due dico quello... ho con... Madonna le cuffiette Perché per chi non lo sapesse Andrex ha già fatto altre parodi, quindi lui l'ho già sentito cantare Sergix, è vero ci sono delle canzoni nel suo canale, ma non le cantava lui ufficialmente Le cantava un altro ragazzo che gliele ha fatte Quindi assolutamente voglio sentire come canta Eh, dai, ci sta, però Ci sta Vabbè, vlogger E gli hater, come al solito Uh Eh, sì, si dice sempre... praticamente si parla sempre di hater e insulti e copiare i video Uh Eh, già È un video mezzotissimo Big money con YouTube per questo iPhone Ragazzi, c'è Devo dirlo, è veramente bello E gli sulta per favore E gli sulta per favore Ok, allora, qui in parte non gli insulti Biiiiip No, dai, non c'ho voglia di editare il video Scherzavo, dai, lo edito come... Come cerco di fare di solito il meglio possibile E niente Però... Il video è fatto bene Per me ci sta anche... Si vedeva che avevamo guardato anche come si vestivano Perché molto spesso ne guardano tipo i loro vestiti Che erano vestiti di bianco E ci stava Veramente bella Come parodia ci sta un totale Ci sta molto bene E anche editata soprattutto Io però avrei tolto personalmente Quelle, tipo, quelle foto che... Quei pezzi di video che erano così Che hanno messo così Quelli li avrei tolti Perché per me non ci stavano Però, raga, devo dire che è veramente, veramente bello Ragazzi, se il video vi è piaciuto Commentate, lasciate like, iscrivetevi Mi raccomando Condividete con gli amici In modo che si possono iscrivere Mi raccomando A gennaio Come ho detto Usciranno molti, molti, molti vlog Che sto già preparando Non so quando sto registrando Sì Sto... Ho già registrato Molti bei vlog Che sto editando Perché voglio Migliorare anche la parte dell'editing Non solo dei contenuti Quindi, raga Condividete questo video Assolutamente E fate iscrivervi A più gente possibile E ci vediamo Ciao Ciao